Ecco i preparativi ancora del mio alberello di Natale. Volevo festeggiarlo a casa, visto che fuori non si può andare, ho detto beh, me lo faccio a casa un altarino. Ancora devo mettere altre cosette, in questi vedete basamenti di Eucaripto, sono delle fette queste qua a forma di cuore, vedete, metterò ancora altre cosette che dovrò trovare in giro, chiaramente manca qualche cosa per completare, poi i regali vediamo di mettere qualche cosa di nostro quest'anno. E poi c'è questo, diciamo che questo è un ramo di un pino, ecco abbattuto dal vento e da un ramo sono riuscito a trovare uno dritto collegato di qua di là, e sono riuscito a realizzare fino a sopra questa cosa, ecco. Beh, ci sono anche le cocorite, sicuramente avranno anche i suoi colori, io la sera le entro sempre, di questo periodo anche alle 3 di pomeriggio, dipende dal tempo, ecco se il tempo è bello rilascio, altrimenti le metto dentro casa, chiaramente. Ecco qua. La mamma non potrebbe che essere contenta, proprio di fronte a lei questa, tutte queste luci vedete. Ok, si può sempre abbellire un po', ma senza strafare, più fai e più si riduce, va bene così. Gli effetti ci sono, come no? Ok, vi saluto, spero che questa mia trovata sia per voi anche un po' di meraviglioso. Magia vi arriva pure a voi, a me mi è arrivata comunque. Alla prossima occasione, acropalate da Michele Xperia. Grazie a tutti.